Il governatore De Luca oggi appare vittima di se stesso, del suo personaggio, della sua retorica, del suo populismo. De Luca immaginava, incassato il plebiscito nelle urne dopo una campagna elettorale interamente giocata sulla gestione della prima fase pandemica, di essere nelle condizioni di governare la campagna come se fosse un protettorato, di poter decidere in autonomia, a prescindere dal parere dei livelli istituzionali superiori, a prescindere dai criteri stabiliti dal governo, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità, di poter governare la complessità di questa fase sostanzialmente in solitudine, decidendo in autonomia quali misure adottare scaricando il conto sul Roma. Ha iniziato con la chiusura delle scuole, il passo successivo sarebbe stato appunto il lockdown, ma stavolta non ha funzionato proprio perché il governatore ha commesso un passo falso. Ha ritenuto di dare per scontato ciò che scontato non era, ha sottovalutato complessità di Napoli e dell'area metropolitana da un punto di vista sociale, ha creduto di poter fare da solo senza dar conto al governo e per questa via è stato seppellito dalle sue stesse parole. Oggi si vede costretto a giocare in difesa, prova ad uscire dall'angolo rivendicando in merito aver messo il sistema sanitario campano nelle condizioni di resistere all'onda d'urto di questa seconda ondata, ma non è più credibile perché i conti continuano a non tornare, perché da un giorno all'altro abbiamo visto moltiplicati i posti di terapia intensiva e le dichiarazioni di questi ultimi giorni restituiscono all'immagine uno sceriffo costretto persino a rincorrere le sortire del sindaco di Napoli. Ma sarebbe sbagliato, profondamente sbagliato, ritenere che De Luca sia destinato ad essere travolto da questa seconda ondata, perché al fondo delle cose restano tutte le sue ragioni. Resta la ragionevolezza di una linea affrontata sul principio della prevenzione, sul presupposto che le terapie intensive non si creano perché possano essere occupate per mettere in sicurezza il sistema. Muovendo dal presupposto che l'obiettivo dovrebbe essere quello di contenere il contagio, perché questo è solo un modo per evitare il collasso delle strutture e per evitare le vittime. Il governo invece ha scelto una via diversa, ha scelto di rincorrere il virus, di modulare le misure in funzione della gravità contingente della situazione, dunque di chiudere solo laddove il collasso è già avvenuto, rinunciando a prevenire. Se il governo, in giro di pochi giorni e un paio di settimane, dovesse vedersi costretto a cedere e ad imporre un nuovo lockdown, De Luca vedrebbe riconosciuto tutte le sue ragioni, vedrebbe riconosciuto come il governatore che per prima aveva visto quel che sarebbe accaduto, che per prima aveva indicato la soluzione. Le cartolarizzazioni tornano al centro del dibattito europeo nel tentativo di liberare le banche da alcuni lacci e consentire di prestare più denaro all'economia reale. Nei giorni scusi alla Commissione Economica del Parlamento europeo sono state votate due relazioni legislative sul tema. La cartolarizzazione è un'operazione tramite la quale le banche sono in grado di liberare denaro per l'erogazione di ulteriori prestiti alle imprese. Ne esistono i due tipi, quella tradizionale, che è un'operazione che consente a una banca di rifinanziare un pacchetto di prestiti, di esposizione o di credito suddivisi in diverse categorie di rischio, trasformando in titoli negoziabili sul mercato. Dal 2016 sono stati introdotti dei requisiti per questo tipo di cartolarizzazione, cioè semplicità, standardizzazione e trasparenza. Il secondo tipo sono le cartolarizzazioni sintetiche, cioè operazioni che consentono alla banca di non cedere i propri crediti, ma di trasferire il rischio di default ad altri soggetti, mediante un'assicurazione del credito. L'obiettivo dichiarato dalla Commissione era quello di liberare le banche dai crediti in bilancio per ottenere liquidità immediata da riversare l'economia reale, estendendo il quadro delle cartolarizzazioni tradizionali anche alle cartolarizzazioni sintetiche in bilancio, favorendone la diffusione e leggerendo gli ostacoli regolamentari. La relazione, si legge nella nota dell'euro parlamentare Pier Nicola Pedicini, contiene anche diversi aspetti positivi sulla sostenibilità ambientale degli investimenti, sia per le cartolarizzazioni tradizionali che per le cartolarizzazioni sintetiche. Noi abbiamo votato a favore di questi punti. Tuttavia le modifiche avrebbero comportato un maggiore utilizzo dello strumento della cartolarizzazione, inclusa la cartolarizzazione sintetica, e avrebbero rimosso gli ostacoli alle cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate, permettendo di fare mercato su tutto e così creando bolle su bolle. Per questo mi sono opposto. La crisi del 2008 ci insegna che il rischio di speculazione è sempre alle porte. Ecco perché questi dossier vanno sorvegliati, eliminando sia la componente pregiudiziale rispetto a questi strumenti, sia il totale sdoganamento delle regole. A seguito di una mirata ed articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinia Compagnia di Ariano Irpino con la collaborazione Carabinia Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno dato esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di un quarantenne palermitano attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di atti persecutori, diffusione illecita di immagini e video sessualmente esplicite e tentata estorsione ai danni di una donna della Vellinese. Le indagini avviate nel mese di gennaio 2020 e conclusesi nel mese di ottobre hanno consentito di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario del provvedimento cautelare in ordine alla sistematica attività di persecuzione perpetrate nei confronti della ex compagna. Lo stesso con condotte reiterate consistite in minacce verbali nonché nell'invio di messaggi telefonici molestava la donna cagionandole un perdurante stato d'ansia e di paura ed ingenerando nella stessa un fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari. Le condotte persecutorie si concretizzavano attraverso l'invio di numerosi messaggi e di telefonate dal contenuto minaccioso per la vittima e per la figlia minorenne della stessa nonché mediante la diffusione di immagini e video che ritraevano la vittima in atteggiamenti sessualmente espliciti servendosi di strumenti informatici e di numerosi account sui principali social network mediante i quali l'indacato diffondeva i predetti contenuti a sfondo sessuale. Lo stesso inoltre poneva in esse richieste estorsive ai danni della ex compagna sempre con l'intento di controllarle e di riallacciare la relazione sentimentale con la stessa. L'indacato infine anche di recente da Palermo si è recato nel comune Irpino per rintracciare la vittima e riallacciare con la stessa contatti. Nel corso dell'attività di indagia è stato anche già disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento dei profili social utilizzati dall'indacato. Il GIP presso il Tribunale di Benevento ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelare a carico dell'indacato, accogliendo la richiesta della Procura di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il GIP presso il Tribunale di Benevento ha ritenuto, accogliendo la richiesta di